Come è un'agenzia internazionale di design, ingegneria e comunicazione? Abbiamo una serie di competenze che racchiudiamo sotto queste tre discipline. Queste tre discipline sono fondamentali per sviluppare un qualsiasi prodotto, che può essere una lavatrice, può essere un aereo, può essere una bicicletta, può essere un servizio, può essere qualsiasi prodotto. Il design quindi è tutta la parte iniziale, quella di ricerca, di invenzione, di confronto col mercato, l'ingegneria e l'elettronica, la meccanica, il digitale, tutto quello che serve per fare un'interfaccia, tutto ciò che è digitale, la comunicazione, il branding è tutto quello che serve, quando ho capito che cosa fare, quando l'ho progettato, per proporlo al mercato. Noi di Mestiere facciamo innovazione per i nostri clienti, abbiamo due sedi negli Stati Uniti, una sede a Shanghai, quindi lavoriamo per mercati anche molto lontani. Tre anni fa abbiamo deciso di avere un campus, un vivaio di inventori, di geni, di invenzioni, un posto, un crogiolo, dove di fianco a noi, concentrati sul fare, sull'inventare, nascano delle eccellenze, in parallelo però anche un incubatore d'impresa, dove appunto generare delle opportunità. Siamo qua sul territorio di Varese e quindi abbiamo deciso di restarci qua a Varese, vicino a Malpensa, un territorio fantastico dal punto di vista delle opportunità, e abbiamo deciso di appunto aprire un incubatore d'impresa. Questo incubatore vorrebbe sfruttare tutte queste competenze, questa rete, questo network, eccetera, per renderlo disponibile. Vi sfidiamo, vi lanciamo delle opportunità, il tema è il digitale, quindi tutto ciò che è digitale, ma per l'industria, quindi l'opportunità di cedere al nostro network, alle nostre competenze. Ci vediamo il 24, il 17 chiudono le iscrizioni e sono già arrivate tantissime idee. Forza ragazzi e forza inventori e qui c'è pane croccante! Grazie a tutti!